E' mercoledì 15 maggio 2019, pronti per la nostra rassegna stampa con un'ora di mattino 6 che iniziamo ovviamente con le prime pagine dei quotidiani locali. Siamo sull'edizione pescarese del centro, terme l'area apertura si allontana, Caramanico e Popoli la soluzione in mano a Regione e Ministero. Sotto la testata Regione Abruzzo via al piano Veri, la giunta 16 milioni per le assunzioni contro le liste d'attesa. E poi una delle decisioni più attese anche se non c'è ancora l'ufficialità, arriva dal vertice di ieri sera, la leggiamo sulla fotonotizia, Autostrada 24, vertice risolutivo al Ministero Torinelli, il traforo del Gran Sasso non sarà chiuso. E poi ancora di spalla l'intervista a Gio di Tonno, torniamo con il musical Notre Dame. E poi ancora i richiami di cronaca a Pescara, i nuovi gestori, così rilanciamo l'Enaia di Nazareno Di Matteo, presidente di Pinguino, capofila delle associazioni che hanno in gestione l'Enaia di svela i progetti per rilanciare l'impianto a cominciare da un importante meeting di nuoto. Sempre a Pescara in vista delle prossime elezioni, Masci, la Lega è d'accordo, stop al mercato etnico. E poi il progetto, un acquapark alla Stella Maris di Montesilvano. Sotto la fotonotizia, con questa notizia che si incrocia anche con le imminenti elezioni a Pescara, abuso e falso processate Pagnanelli. Pescara alla Procura chiede il rinvio a giudizio del presidente del Consiglio Comunale. E poi in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna, vietate le foto di classe, lo chiede l'Europa. Questa almeno è l'interpretazione che una preside di scuola elementare di Trieste ha dato alle nuove norme europee sulla tutela dell'immagine dei minori, entrate in vigore da un anno. Risultato? Niente foto ricordo. Andiamo avanti ora con l'edizione di Chieti del centro. Questa l'apertura, spariti i soldi del palazzo a processo. Chieti, amministratore condominiale accusato di ammanchi per 11 mila euro. E poi i richiami a Lanciano, maxi evasione della Virtus, una condanna e l'amministratore unico della Virtus Lanciano, Claudio Di Meno di Bucchianico, che è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa per una maxi evasione di IVA. Abbasto, fiumi e sondati, le strade invase dal fango. A Chieti arrivano i nuovi parroci scelti da Forte. E poi sotto la fotonotizia, sempre con la cronaca, giovane picchi e sequestra la nonna. A Chieti condannato a quattro anni di carcere, pretendeva soldi per comprare la droga. La fotonotizia che riguarda la vicenda del traforo del Gran Sasso è la medesima per le quattro edizioni del centro. Ecco, la vediamo anche sull'edizione Aquilana, che apre così assolto dieci anni dopo l'arresto all'Aquila, scagionato cavaliere dalla tentata truffa con i fondi del sociale. E poi scendiamo ai richiami all'Aquila. Ricostruzione in arrivo 20 milioni pubblicato sull'albo pretorio del Comune, il quarantesimo elenco dei buoni contributo della ricostruzione privata. Si tratta di circa 20 milioni di fondi, la mappa delle zone interessate tra città e frazioni. Poi ad Avezzano, Fratelli d'Italia, si spacca sull'assessore. A Sulmona, case Ater, occupazioni abusive in sette nel Mirino. E poi ad Avezzano, semaforo killer, prima multa annullata, giudice accoglie per ricorso per un'auto del Celano Vigilantes sanzionata. E ora siamo sull'edizione Terramana del centro, con questa apertura strisce blu, addio ai parcometri. Teramo nel nuovo bando del Comune sui parcheggi non sono previsti. E poi i richiami di cronaca. Teramo, il progetto Casa dello Studente, la tecnologia ridurrà i costi. Ieri è iniziato l'iter per la costruzione della Casa dello Studente. È arrivata a Lanzu una PEC dal Ministero. Si devono iniziare le procedure per avviare i lavori previsti dagli stanziamenti di 13 milioni. Teramo, il processo, prima denuncia il figlio e poi lo fa assolvere. A Giulianova dell'olio torna in mare dopo i guai in Spagna. E poi a Montorio spara per sbaglio a figlio e nipote. Condannato a sei mesi un anziano. Li aveva feriti credendoli dei ladri. Proseguiamo. Siamo sulla prima del messaggero Abruzzo che apre così traforo. Chiusura più lontana. Ministero e strada dei parchi verso l'accordo. Gestione al commissario o alla protezione civile. fondi dal governo per i lavori e meno traffico. Manca soltanto l'annuncio ufficiale. E poi danni. Il maltempo flagella. Teramo a Pescara. Chiuse le golene. A Francavilla. La villa diventa un hotel in 5 sotto accusa. E poi per lo sport serie B. Pescara. Orgoglio. Repetto. Quarto posto meritato. La società non è mai stata coinvolta nei polveroni perché è sana. Tambone approva la linea dell'assemblea. L'ex Zanon. Il delfino più che minavagante. Andiamo di spalla. Zess. Febbo. I ritardi non sono colpa nostra. Stanziati i fondi ma manca la stesura dei confini dell'area speciale. In taglio medio. Finanza. Dossier sugli affari del CUS. La causa legale con l'università. E poi sempre in taglio medio la cronaca prende per il collo il tassista. Bandito arrestato. L'uomo rapinato lungo Viale Bovio in Manette. Un napoletano di 23 anni. E siamo sulla prima della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Tre condizioni per il traforo. Monitoraggio ambientale. Pianificazione dell'emergenza e riduzione del traffico per scongiurare la chiusura. E siamo in linea sempre con la stessa notizia per quanto riguarda la foto a centropagina. Si parla proprio di fumata bianca. Strada dei parchi attende solo le dovute garanzie. Sotto la testata annunciata una manifestazione per il 25 maggio sfollati in piazza contro la ricostruzione lumaca. L'iniziativa Startup e Marketing. Due nuove rubriche dedicate al futuro. E poi di spalla vicenda Teramo Ambiente. Il giudice rigetta il concordato fallimentare del gruppo Gavioli. A Giulianova stancata Irpef. L'aliquota schizza al top. E poi sotto la fotonotizia il maltempo. Riattiva le frane. Strade disastrate. Fiumi in piena nell'entroterra. In basso il concerto Shinjo X. Dieci anni di bella musica da celebrare al comunale. E passiamo ora alle testate nazionali. Andiamo a vedere le principali testate. Le loro prime pagine iniziando dal Corriere della Sera. Salvini ai 5 Stelle. Andiamo avanti ma basta attacchi. Giorgetti in tv è pessimista. Troppi scontri. Alleati divisi. Lo spread torna a preoccupare. La fotonotizia. Eccola qui. Can sorride con gli zombie e litiga su Delon. La palma al divo accusato di sessismo. E poi di spalla addio a Gabetti il consigliere dell'avvocato. Aveva 94 anni. In taglio medio Noemi un miracolo. Resteremo a Napoli. Se ne vadano i boss. Parla il papà della bimba ferita. E siamo sulla prima di Repubblica che apre così. Il ministro torna subito. Salvini in ufficio. Non c'è mai. Gira l'Italia sugli aerei speciali della polizia. L'opposizione. Un furbetto. Minniti. Io c'ero e come. Tormentavo i funzionari. Intanto Lega e 5 Stelle vogliono lottizzare gli 007. Scendiamo a centropagina. Banche. Unicredit. Tentazione tedesca. E poi la fotonotizia. Il festival. Cannes. Sfilano le grandi famiglie del cinema. E in basso l'intervista al sindaco di Milano Sala. Ci serve una sinistra più larga. Serie tv. Non posso stare senza sequel. Il riferimento è all'ultima puntata imminente del trono di spade. Andiamo ora sulla prima pagina del messaggero che apre così. Spread. Salvini accende la miccia. Il ministro leghista si deve sforare il 3% di Maio. Basta sparate. Diferenziale BTP Bunda. 283. Giorgetti evoca la crisi dopo il voto. Non si può continuare così. Salta il vertice sull'autonomia. Poi tanto sport. Intanto sotto la testata. Gli internazionali berrettini da urlo. Battuto Sverev al Foro Italico. È nata una stella. Battuto Sverev con un doppio 7-5. Poi per il calcio. Stasera olimpico esaurito. Coppa Italia. Atto finale. Ecco Atalanta-Lazio. Inzaghi un trofeo per salvare la stagione. Ancora lo sport con la fotonotizia. De Rossi costretto a lasciare la Roma ed è un addio al veleno. Il club. Ultimo match il 26 maggio. Volevo giocare ancora. Loro. No. Sempre in taglio medio. Palazzo occupato. Controlli di polizia per le feste abusive. Agenti in azione dopo il blitz del cardinale. Beffa per i proprietari. Inchiesta è stangata. Imu. Proseguiamo. E siamo sulla prima. Della stampa che apre così. Salvini sfida l'Unione europea sui conti e fa schizzare lo spread. Di Maio irresponsabile. Giorgetti avvisa di 5 stelle. Troppi scontri. Pronti alla crisi dopo il voto. Il differenziare tocca i 280 punti. Il capo del Viminale. Più ci attaccano più vinciamo. E poi la foto con l'addio a Gabetti. Una vita per gli agnelli. A centropagina la fotonotizia. Trump schiera la US Navy per avvertire l'Iran. Basta minacce. La prima pagina del tempo che apre proprio con il caso De Rossi. La Roma leva il pallone a De Rossi. Niente. Rinnovo. La società scarica il capitano. Lui dieci mesi senza chiamarmi. Avevo capito. Dopo Totti. La proprietà stelle strisce Rottama. Un'altra bandiera giallorossa. La rabbia dei tifosi. E poi il tempo di Oscio. A centropagina. I grillini cercano il PD. Lega in ansia. Guarda che ti ho visto che stavi a chattare con Zingaretti. Ovviamente con una espressione un po' più romanesca nello scritto. Di spalla. Stasera la finale contro l'Atalanta. Lazio a caccia della Coppa. Salva stagione. E poi in taglio medio. La Raggi si sveglia sulle piste ciclabili. Dopo le denunce del tempo. La sindaca promette interventi straordinari. È il primo obiettivo. Il mattino. Ecco il quotidiano napoletano che apre così maltrattamenti sui bambini. Il triste record in campagna. Rapporto shock dell'autority per l'infanzia. Prima per violenze sui minori. Al sud pesano i pochi servizi. La povertà diffusa. E l'età più bassa dei genitori. E poi deficit sfida di Salvini. E lo spread si impenna. Si deve sforare il 3% di maio. È un irresponsabile. Giorgetti. La crisi dopo il voto. E quindi la fotonotizia con la buona sanità. Il figlio si sposa. Trasportato in ambulanza. L'ultimo regalo a Giuseppe. Malato di Slada. Bosco Reale a Viterbo. La commozione dei medici. Il manifesto con questo titolo d'apertura. Diritto di vivere. Anche se perde la protezione internazionale. Un rifugiato che rischia la vita nel paese di origine. Non può essere rimpatriato. È la sentenza della Corte di giustizia europea che smonta una parte importante del decreto sicurezza di Salvini. Ma il ministro insiste. Ecco perché l'Europa va cambiata. Io non cambio la legge. E siamo sulla prima di Libero. Ecco qui si atteggia a padrone dell'Italia. Di Maio fa il ducetto. Il leader del Movimento 5 Stelle è salito al potere a suon di vaffa. Dopo aver chiesto l'impeachment per Mattarella. Aver tentato di allearsi con i gilet gialli si finge un moderato. Ecco un campionario dei suoi orrori. E poi la foto notizia. Se il Vaticano viola la legge e cosa santa il bullismo del cardinale. Il segretario di Stato Parolin togliere i sigilli alla luce nella casa occupata. È una buona azione che ha attivato le istituzioni. E poi in taglio medio il Veneto si ribella al reddito grillino. Restituite centinaia di carte per avere il sussidio. L'ultima beffa. Nove richiedenti su dieci. Beccheranno i soldi senza cercare lavoro. E andiamo sulla prima del fatto quotidiano che apre così il patto del pomicino o ministro al neosegretario. Ora i miei amici voteranno per voi. Il nuovo PD Zingaretti vede il condannato Andreottiano che appoggia i dem. Sotto la testata. Undici anni dopo Casa Pound in Rai. Il processo all'editore di Salvini è sparito. Il porto delle nebbie. L'assalto neofascista a chi l'ha visto. Andiamo avanti. Siamo sul secolo punto it. Troppa faziosità. Lucia annunziata sotto accusa in vigilanza Rai per la sua trasmissione. Poi i richiami a fondo pagina. Ok al diele semplificazioni. Fratelli d'Italia non crea sviluppo. Aftar ritorna in Italia. Incontro con Conte. E poi aberrante sentenza dell'Unione Europea impunità per i rifugiati. Proseguiamo e siamo sul sole 24 ore. Questa è l'apertura. Pirelli socio al lavoro per il nuovo patto con l'azionista cinese. Sul tavolo il prolungamento dell'intese con ChemChina per almeno altri due anni. L'accordo dovrebbe ricalcare lo schema attuale incluse le garanzie di italianità in vista di rinvio dell'iter per la successione. Tronchetti resta al comando. La foto notizia. Bayer fa cassa e cede Copperton a Nivea. Dismissioni per pagare le multe sul glifosato. Andiamo a centro pagina. Semplificazioni fiscali. Primo sì. Emissioni in 15 giorni per la e-fattura. Dichiarazioni nuovi termini. Affitti non pagati. stop tasse. Norme verso il DL crescita. E poi reddito di cittadinanza. Avvio al lavoro solo per una famiglia su quattro. I centri per l'impiego contatteranno i nuclei chiamata dal 24 giugno. La prima pagina della verità che apre così il trionfo della santa ipocrisia. La Chiesa aiuta gli staniere abusivi ma poi sfratta le famiglie italiane. Avvenire con Zingaretti a ruota esalta il reato di Monsignor Craieschi. Illegalità giusta. Sì a spese nostre. Quando si tratta dei loro edifici. Vaticano, Curie e parrocchie. La legge la fanno rispettare. Senza pietà. E poi in taglio medio. Giudici scatenati. Dobbiamo tenerci gli immigrati anche se sono una minaccia. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea rende le espulsioni sempre più difficili. Al Tribunale di Venezia basta che il clandestino sia integrato. E poi la fotonotizia non attacca Salvini. Questo manifesto la sinistra vuol bruciarlo. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina dell'avvenire con cui concludiamo questa parentesi dedicata alle prime pagine delle testate nazionali. Mai senza rifugio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea profughi e richiedenti non possono essere rimpatriati se rischiano la vita o la tortura nel loro paese. Decreto sicurezza messo in mora. Il Procuratore Zuccaro chiude il caso Open Arms archiviando Salvini. Non cambio la legge. E poi la fotonotizia. Cannabis Light. La zona grigio fumo. Il Vescovo Macerata. Loda il questore. E poi Movimento 5 Stelle Lega. Divisi su deficit e misure per la famiglia. Rapporti zero nel governo. Proposti sconti sui pannolini e un bonus bebè. Lasciamo le testate nazionali. Torniamo alle locali. Siamo su pagina 2 del centro. Ovviamente l'argomento in primo piano è la paventata chiusura che al momento sembra essere sventata del traforo del Gran Sasso. Ecco qui Abruzzo. Toninelli dice no alla chiusura. In campo la protezione civile. Strada dei parchi soddisfatta. Ma la politica si spacca sul nome di Marsiglio. Ha provato in consiglio solo il documento del centro-destra che esclude il governatore commissario. Marcozzi e gli altri 5 Stelle si astengono perché i problemi sono già risolti. E poi ancora in questo caso l'argomento è la sanità. Dalla regione 16 milioni per abbattere liste di attesa. Fondi extra dalla giunta su proposta di veri per assunzioni negli ospedali. Maslitta dopo il 22 la nomina dei due nuovi manager ASL dell'Aquila e Chieti. In basso trabocchi bloccata la nuova legge. PD e Movimento 5 Stelle fanno fronte comune contro i ristoranti di 210 metri quadrati con vista mare. Andiamo avanti. Pagina Abruzzo. Pacchi di posta in giacenza. Centri di recapito in tilt. Giancola della SLC CGL. I clienti protestano per i ritardi nella consegna delle lettere. I postini sono esasperati per i carichi di lavoro eccessivi pronti alla protesta. In basso leggiamo ed il cassa è lucente. Il nuovo presidente, l'imprenditore, promette il massimo impegno in un momento difficile per il settore dell'edilizia. Andiamo ora sulle pagine di Pescara con il caso delle terme, in particolare a Caramanico e Popoli. Nella regione le terme riaprano 207 dipendenti con il fiato sospeso. L'assessore alla sanità ci sono 3 milioni per le cure ma per ora niente fondi per la riabilitazione ma adesso è una lotta contro il tempo e il rischio di non partire diventa sempre più concreto. Le parole del sindaco Angelucci. Ci sono 1100 posti in albergo pronti, centenelle di prenotazioni per le terapie. Tanti gruppi in arrivo. Ora serve accelerare le procedure, dice appunto il primo cittadino di Caramanico Terme. Poi in basso, abuso e falso. Pagnanelli a rischio processo. Chiusa l'inchiesta sull'immobile di via Fabrizi. Il PM chiede il rinvio a giudizio per il presidente del Consiglio. Avanti ancora la rinascita dell'impianto sportivo, la nuova vita delle naia di meeting di nuoto a luglio. Di Matteo, presidente della Pinguino, svela i programmi della neonata gestione. Tra le priorità la riapertura della piscina olimpionica e spettacoli da fine agosto. Allora noi ascoltiamo ora invece il punto di vista dei sindacati, soprattutto sul fronte dell'occupazione, circa la vicenda della riapertura delle naeri. Vediamo. Segretario, qual è la situazione di questi lavoratori che si aspettano ora di essere i primi a poter essere chiamati dalla nuova società? La situazione è quella che era già in essere da qualche settimana, ossia lavoratori, circa 35 dipendenti diretti della progetto sport e un'altra quarantina circa, gli istruttori che sono impegnati, che erano impegnati con le varie attività sportive all'interno della struttura. Questi lavoratori che peraltro sono senza stipendi ormai da più di tre mesi e da gennaio che non percepiscono chi lo stipendio, chi i compensi previsti dalle clausole contrattuali che loro hanno e ora sono legati appunto a questa aggiudicazione di cui abbiamo preso nota in questi giorni, per cui come da impegni assunti anche dalla regione Abruzzo che noi abbiamo sollecitato a far sì che vengano messe in campo tutte le iniziative utili e necessarie affinché quell'occupazione venga preservata e quindi venga assorbita dal nuovo gestore che abbiamo appreso dalla stampa dovrebbe entrare nei primi di luglio o forse anche prima se si riesce a concludere alcuni interventi strutturali necessari alla riapertura dell'impianto. Quei lavoratori ovviamente per gli impegni assunti anche della regione rivendicano un posto di lavoro perché riteniamo che ci siano le condizioni anche perché le clausole sociali prevedono questo tipo di impostazione affinché quei lavoratori possano essere riassorbiti non solo per le clausole sociali in essere che poi peraltro non sono previsti dal bando ma c'è un impegno della regione affinché sia comunque applicata quel tipo di tutela ma anche perché quei lavoratori sono di fatto degli esperti in quel tipo di settore per cui non è prevedibile pensare a nuove figure per affrontare una gestione di quella struttura a cui quei lavoratori hanno dedicato anni ed esperienze. proseguiamo sempre sul centro il maltempo danneggia spiagge raccolti la Sib chiede di prorogare i lavori anti erosione col diretti in ritardo pomodori peperoni e meloni proseguiamo siamo alla cronaca prende per il collo tassista per rapinarlo arrestato un giovane rintracciato dalla polizia in una traversa di Viale Bovio dopo l'aggressione e la fuga con 300 euro e poi in taglio medio rinviato a giudizio il pescarese che raggirò Nadia e Bartolo il caso circonvenzione di incapace scoperto dalle Iene e poi di spalla uccise il vicino di casa e sì al rito abbreviato processo il primo di ottobre. proseguiamo siamo ora ai vari candidati a sindaco delle prossime elezioni a pescara in questa due pagine del centro e allora i problemi dei quartieri la promessa dei candidati giro di vite sulle antenne incontro in comune con i rappresentanti dei comitati assenti maschi e teodoro siglato un documento che impegna i futuri sindaci a combattere l'elettrosmog e poi in taglio medio Viale Muzzi la ciclabile divide i negozianti c'è chi chiude l'attività e chi rilancia calicchia dopo 45 anni mi fermo di bastiano vendo sui social e poi ancora sempre verso le elezioni maschi via il mercato etnico anche la lega è d'accordo il candidato sindaco assicura il centro-destra è unito non ci sono contrasti studieremo il modo di trasferire gli ambulanti senegalesi nei mercati rionali e poi in taglio medio la pineta resti aperta ai cittadini con la rossi presidente agronomi ecco le nostre richieste ai candidati sindaci poi in basso la replica al carroccio teodoro la città è più sicura siamo stati anche premiati e poi marinella a sclocco in tutti i musei si celebreranno i matrimoni la proposta di civitarese stop alle auto davanti alle scuole proseguiamo e siamo sempre a pescara torna la rassegna su come rendere le case più sicure domani e venerdì al porto turistico la tradizionale fiera dedicata alla sicurezza soluzione soluzioni innovative proposte per proteggersi dagli assalti anche virtuali e ora le pagine di monte silvano con la vicenda stella maris ecco come farla rivivere c'è questa proposta da ex colonia grande acquapark il progetto del designer attilio novelli prevede anche due grandi scivoli nel mare e poi in taglio medio domenica la ciclo passeggiata ecologica l'evento organizzato dalla fiab in collaborazione con il comune coinvolgerà 160 città italiane proseguiamo e siamo con la cronaca a spoltore tamponata nell'auto ferma paura per una donna al sesto mese incidente sulla circonvallazione oltre 300 pardon oltre alla trentenne feriti il marito e l'altro conducente la coppia aveva accostato per problemi alla macchina ed è stata travolta dalla vettura che seguiva invece a francavilla da ristorante a palazzo in 5 a giudizio per abuso l'inchiesta sull'immobile di via l'alcione il 16 luglio la prima udienza alla sbarra oltre all'imprenditore masciangelo anche due dipendenti comunali proseguiamo siamo in la nell'area vestina frane fango e buche il maltempo piega le contrade di penne sempre più difficile spostarsi a causa delle strade dissestate a villadegna il traffico è consentito soltanto ai residenti e ora le pagine di chieti denuncia degli inquilini caso in tribunale spariti i soldi del condominio a processo amministratore sotto accusa per 11 mila euro di ammanchi in aula sfidano i testimoni non ha mai convocato una riunione l'inchiesta del pm ciani le indagini della finanza scattate dopo l'esposto dei residenti costretti a fare la colletta per pagare la luce e poi in taglio medio sempre per la cronaca picchia e sequestra la nonna condannato inflitti quattro anni di carcere a un giovane prendeva soldi per la droga e la chiudeva a chiave in camera e poi sempre la cronaca a piedi pagina banda della cocaina i capi tornano liberi per l'accusa sono criminali pericolosi e violenti ma i giudici del riesame annullano l'ordinanza proseguiamo caso virtus lanciano evasi 3,6 milioni scatta la condanna un anno e quattro mesi pena sospesa a di meno di bucchiani coordinata anche la confisca dei beni per coprire il debito iva ma la difesa prepara già il ricorso in appello nel 2016 la squadra fu penalizzata e retrocesse dalla b a causa dei problemi con il fisco e poi in taglio medio sempre a lanciano la asl condannata a risarcire un ausiliario sentenza pilota del giudice del lavoro negli ultimi cinque anni il dipendente ha svolto mansioni superiori avanti ancora siamo a san salvo con questa triste vicenda cristian e i sogni spezzati tragedia che sconvolge tutti chiesa gremita per l'addio al 19enne morto sul campo di calcetto le lacrime degli amici lettera della preside del palizzi e gli studenti dramma ingiusto ma riflettiamo sul senso della vita e ora le pagine di teramo con il recupero dell'ex rettorato in casa dello studente progetto al via edifici gestiti con l'automazione è arrivata all'azzo la nota del miur comincia l'iter che porterà il bando per i lavori a marzo 2020 berardinelli riqualifichiamo un quartiere sorgi la domotica ridurrà i costi di amministrazione e poi ancora sparò figlio e nipote credendoli dei ladri condannato a sei mesi accusato di lesioni un 75enne che all'epoca si sentì male per lo shock il caso accadde a montorio i congiunti feriti finirono in ospedale e poi ancora caso granzasso le reazioni popolazione abruzzese usata come scudo umano lo dicono i sindaci di teramo e l'aquila in una conferenza stampa congiunta e sottolineano danno di immagine già fatto ora una soluzione per l'acqua allora ascoltiamo le parole dei sindaci d'alberto e biondi in questo servizio al di là dell'obiettivo che siamo convinti di raggiungere di scongiurare la chiusura del traforo il nostro territorio non può più essere sottoposto a ricatti continui da parte di chi comunque gestisce un'infrastruttura importante ma anche da parte di tutti i soggetti che sono responsabili di una vicenda che finalmente deve trovare la sua fine e la sua conclusione che non è ovviamente limitata soltanto alla chiusura del traforo ma alla messa in sicurezza definitiva del sistema granzasso. Chiederemo di cogliere l'opportunità delle modifiche al decreto sblocca cantieri per creare i presupposti affinché ci sia oltre ad un commissario vediamo se è utile o meno soprattutto le risorse necessarie per mettere in sicurezza l'acquifero è una procedura un percorso che rispetti definitivamente che chiuda definitivamente una vicenda che anche soprattutto per responsabilità della politica di una politica assente ancora oggi è aperta. E' il governo che deve mettere in sicurezza però l'intero sistema granzasso? Beh lo scrive il ministero delle infrastrutture non lo dico io e quindi è il governo che deve individuare lo strumento più utile commissario o non commissario deve decidere il governo individuando risorse, poteri e personale a disposizione altrimenti sarebbe inutile nominare un commissario soltanto magari per andare incontro alle richieste di strada dei parchi che ha chiesto di essere manlevata da questa responsabilità. Ancora il maltempo di questi giorni strade franate smottamenti e allagamenti a Torricella allarme al ceppo a Valle Castellana rischio lo scuolabus a Campli cade palo della luce. Proseguiamo e siamo a Silvi dove il comune è in predissesto colpa delle precedenti gestioni l'assessore Valeriani dal rendiconto 2018 emerge una situazione difficile e complicata. Il sindaco Scordella punta il dito contro la scarsa capacità del comune di riscuotere le imposte. E ora le pagine dell'Aquila con questo caso di cronaca giudiziaria tentata truffa la sentenza a soluzione dieci anni dopo l'arresto scagionato Cavaliere accusato di essere al centro di un raggiro per accapararsi almeno 4 milioni di fondi per il sociale. L'ex deputato Giovanardi solo dopo tanto tempo ho potuto spiegare ai magistrati che era impossibile commettere i reati contestati agli accusati. E poi in basso Seggiolini anti abbandono con i soldi pubblici. Il comune assegna contributi per le dotazioni di sicurezza delle autovetture. Il plauso di Meloni, di Fratelli d'Italia. Proseguiamo a Vezzano il caso Tired della discordia. Semaforo killer annullata la prima multa. Il giudice di pace ha accolto il ricorso per una vettura della Celano Vigilantes contravvenzionata. Pesante K.O. per il comune. Dopo quella presentata dall'avvocato Franco Paolini arriveranno altre opposizioni alle sanzioni combinate per presunte infrazioni al codice della strada in quel incrocio. E poi ancora evasione fiscale imprenditore scagionato. Il 46enne di Vezzano era indagato per fatture di servizi inesistenti per quasi 3 milioni di euro. E andiamo a chiudere questa prima parte di mattino 6 con Sulmona. Ecco qui occupazioni abusive in 7 nel Mirino. Vertice in prefettura con le forze dell'ordine. L'Ater annuncia l'avvio di azioni legali per rientrare in possesso degli alloggi. Per il direttore Melanzio Gizzi. Il vero problema sono però i tanti inquilini che non hanno titolo per rimanere ancora nelle abitazioni e che vanno censiti. E poi ancora sempre a Sulmona sollecito Tari per l'appartamento inagibile. Altra richiesta di pagamento alla sorella del defunto proprietario dell'immobile sgomberato nel 2009. Finisce qui la prima parte di mattino 6. Ora spazio, le previsioni del tempo, la pubblicità. Poi rientriamo con Messaggero, la città, lo sport e altri servizi. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di mattino 6 con il Messaggero. Ecco qui il caso Gran Sasso. Il tunnel rimarrà aperto. Se rispetterete la parola il vicepresidente di Strada dei Parchi Fabris. C'è l'accordo sul piano del MIT. Gestione forse della protezione civile. Soldi per la bonifica. Traffico limitato. Ieri incontri con parlamentari e sindaci del Ministero. Probabilmente oggi l'annuncio ufficiale. E poi in taglio medio Marsiglio come commissario. Il Consiglio regionale si divide. Il centrosinistra tenta di forzare la nomina. Ma la maggioranza tiene ferma la posizione. Poi tra politiche virtuose e città attrattive. Così si realizzano imprese di successo. Andiamo avanti con le pagine di Pescara. Abusi. Pagnanelli rischia il processo. La richiesta di rinvio a giudizio per l'esponente del PD si lega ai lavori di ristrutturazione della casa di via Fabrizi. Sotto accusa anche l'ingegnere progettista Galimberti, il dirigente comunale Silveri con il funzionario Giannitti. Per il PM di Giovanni si tenne una riunione segreta per decidere come procedere all'autorizzazione dell'intervento. Udienza dal GUP. Il prossimo 9 luglio devono rispondere di abuso d'ufficio ed edilizio, oltre che di falso ideologico. E poi ancora tre esposti sui concorsi in comune. La tesi infornata pilotata dai politici. Alessandrini, nessun riscontro dalla procura pagano di Forza Italia. Procedure da annullare. E poi in basso elettrosmog. Il patto dei candidati in sei sottoscrivono l'istanza dei comitati anti-antenne. Le idee di Masci sui bus. Teodoro parla di sicurezza. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca di nuovo. Arresto Lampo per la rapina al tassista. Nella notte l'agguato di un cliente in Viale Bovio. A fine corsa l'aggressione con una presa al collo e la minaccia di coltellate. In manette un napoletano di 23 anni, rintracciato da polizia e carabinieri a poca distanza. Aveva smartphone e portafogli. Salito sull'auto bianca alla stazione e ha indicato un paio di indirizzi a caso. Pronta la reazione del conducente. Poi Nadia e Bartolo, truffatore a giudizio per di felice l'accusa e circonvenzione, avrebbe approfittato per anni dei due con la promessa di un lavoro. Il caso è rivelato dalle Iene. Con un servizio proseguiamo con questa vicenda a Francavilla. Da Villetta a Hotel in 5 a giudizio il costruttore di Montesilvano, Raffaele Di Giovanni, sotto accusa a Francavilla insieme a funzionari comunali e direttore dei lavori per la ristrutturazione in corso in Viale Alcione. Il Gup contesta l'abuso di lizio, aumento di cubatura e distanze non rispettate. La procura contesta la validità del doppio cambio di destinazione autorizzato dal comune. Poi uccise il vicino, sì, del giudice al rito abbreviato. Mucciante in aula a ottobre. Vediamo il servizio del Tg6. Roberto Mucciante ha chiesto d'ottenuto il rito abbreviato per l'omicidio del vicino di casa Salvatore Russo, muratore di 58 anni, morto il 25 di aprile 2018 con 38 coltellate inferte, proprio dal 51enne arrestato in flagranza di reato. La richiesta è stata formalizzata dalla difesa questa mattina nel corso dell'udienza preliminare davanti al Gup Elio Bongrazio. La discussione si terrà il primo di ottobre. La moglie della vittima, Vittoria Ventrella, e i quattro figli si sono costituiti parte civile. Il PM, titolare del procedimento, Luca Sciarretta, contesta a Mucciante. Le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il delitto è avvenuto nel garage del palazzo dove vivevano Mucciante e Russo, rispettivamente al primo e al secondo piano, all'angolo tra via del circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Mucciante uccise il vicino di casa perché disturbato dai rumori a suo dire provenienti dall'appartamento della vittima. La famiglia di Russo è rappresentata dagli avvocati Andrea Cocchini e Alessandro Dioguardi. L'imputato, Roberto Mucciante, è invece difeso dagli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Disipio. Sul messaggero le pagine aquilane, il monito di Monsignor Antonini, la sovrintendenza sia stabile, il nunzio apostolico ha auspicato la conferma della struttura per il sisma Vittorini. Ci sono aperture sul tema, questo è il primo caso in Italia. Appello sulla ricostruzione celere degli edifici di culto decisivi per turismo e aggregazione. E proseguiamo sempre all'Aquila, Giro d'Italia, ecco chiusure e limitazioni. La zona di Villa Comunale e Piazza Domo off limits dalle 5, interdizioni e divieti lungo il percorso. A partire dalle 14.30 per motivi di sicurezza non potranno aprire le casette di legno. Le lezioni scolastiche termineranno in anticipo alle 13.10. Proseguiamo, siamo in Marsica, ad Avezzano, semaforo T-Red si punta. Agli indennizzi, intanto l'amministrazione prepara un documento di risposta, il nuovo summit in municipio sulla spinosa questione. Dall'opposizione al completo unanime condanna sui modi e sulle somme chieste ai cittadini. Partito un esposto in procura. Non si spegne l'eco dell'affollata assemblea dell'altro giorno. Proseguiamo, siamo alle pagine di Chieti. Tutti gli affari del CUS spunta un dossier della Guardia di Finanza nella causa con l'Ateneo. Sarà una battaglia a colpi di perizie a decidere il braccio di ferro tra l'annunzio e lente di promozione sportiva. Ieri la prima udienza, distanza di fallimento, ruota intorno a un presunto debito di 4 milioni. La risposta della società in una controcitazione. La prevalenza dell'attività commerciale risulterà decisiva per la decisione del Tribunale. Poi veniamo questa fotonotizia. Capriolo intrappolato in un recinto salvato dai forestali allo scalo. E poi di spalla la droga degli albanesi liberi i fratelli Beharai. Proseguiamo, siamo a Lanciano con la vicenda legata appunto all'Iva Evasa da parte della Virtus Lanciano. Ebbene, Iva Evasa dirigente Virtus condannato. Un anno e quattro mesi a Clodalan Menno di Bucchianico. O messi i versamenti per complessivi 3 milioni e 600 mila euro per l'amministratore unico della società rossonera. Disposta anche l'interdizione da uffici e confisca di beni. L'avvocato della difesa, Paolo Sisti, attende le motivazioni e preannuncia appello. E poi di spalla, lacrime e palloncini per l'addio a Cristian. Centinaia di giovani sotto la pioggia per l'ultimo saluto a Cerbone. Morto a 19 anni mentre giocava a calcetto a San Salvo. Avanti ora con le pagine di Teramo e provincia. Spazi, sosta, diviso il consiglio. D'Alberto sì ai parcometri. Un bando con i criteri per assegnare il servizio. Tercop, 28 posti a rischio. Interrogazione di fracassa sui ritardi. Sono passati 8 mesi senza fare nulla. Il consigliere Pina Ciammaricone è merito del Movimento 5 Stelle. Se è stata aperta un'inchiesta, la gara va fatta al più presto. Poi di spalla, sparò a figlio e nipote per errore, 6 mesi. Poi in basso, carcere nel caos. Il sindaco scrive al ministro. Casa circondariale di Castrogno senza agenti e con tanti detenuti. Problema denunciato anche dai sindacati. Proseguiamo. Siamo sulla costa. Allagamenti e frane. Allerta anche oggi. Pioggia incessante per 48 ore. Il Terramano finisce sott'acqua. Incidenti, feriti e problemi a sottopassi. Auto rimesse e scantinati. Quattro strade invase da detriti e fango a causa del diluvio. Caduta Massi. Il sindaco di Valle Castellana chiama la provincia. Poi nel comune di Campri ha battuti i tralicci dell'alta tensione. Blackout sul posto i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel. E poi a Giulianova il commissario lascia con la stangata IRPEF. L'ex assessore Katia Verdecchia dice che ha applicato ciò che ha deciso il governo. Polemica tra Tribuiani e Costantini. Lasciamo il messaggero. Ci torneremo per le pagine di Sport. Andiamo ora sulla città. Il quotidiano della provincia di Terramo. Siamo a pagina 4 con la vicenda del Gran Sasso. Tre condizioni per evitare la chiusura del traforo. L'ha assicurato il ministro Toninelli al termine dell'incontro di ieri al MIT con i sindaci d'Alberto e Biondi. Il governatore Marco Marsilio non chiederà di essere nominato commissario ma nel caso non si rifiuterà. Sono alto, grosso e con le spalle larghe. Non mi rifiuterò. Dice appunto Marsilio. E poi ancora strada dei parchi con Mauro Fabris, vicepresidente, che ha sottolineato che non ci sarà chiusura se scatteranno le dovute garanzie sulle tre condizioni poste ieri al ministero da Toninelli. Vediamo appunto di nuovo quali sono queste tre condizioni. Monitoraggio rafforzato dell'acqua e dell'ambiente che spetta al ministero. Pianificazione dell'emergenza che viene demandata alla protezione civile e poi limitazione del traffico autostradale d'intesa tra ministero e strada dei parchi ancora da definire. Proseguiamo. Un'altra vicenda, quella di Teramo Ambiente, sempre attuale in questi giorni a Teramo. Il giudice rigetta il concordato fallimentare. Il Tribunale di Venezia deciderà a breve sul ricorso presentato contro la giudicazione all'asta del 49% della società. Segnato un punto a favore per l'imprenditore Terramano Iachini e un altro sui tempi tecnici per il comune, più stretti per definire il caso. E poi alcune delle parti in causa. Stefano Gavioli, l'ex AD della Team, si è giudicato l'asta per il 49% della società da versare entro il 17 maggio. Franco Iachini, l'imprenditore di fatto, ha lanciato l'asta e contesta la sesta partecipazione dell'ex amministratore delegato della Team. E poi il sindaco, Gianguido D'Alberto, che dovrà decidere il nuovo presidente della Team dopo la cacciata di Bozzelli. Proseguiamo, sempre a Terramo, sfollati, manifestazioni in piazza il 25, a 33 mesi della prima scossa c'è esasperazione e malcontento per la mancata ricostruzione delle case. E poi ancora D'Alberto chiede più agenti a Castrogno, il sindaco scrive una lettera al guardasigilli facendosi interprete dei problemi cronici del carcere di Terramo. Sempre il sindaco di Terramo, Stizzito, rampogna gli ex Brucchiani, fracassa di Futuroin, lo incalzava sui problemi lasciati in eredità dalla precedente amministrazione. Avanti ancora con le notizie dalla provincia, il maltempo riaccende, l'allarme frane, disagi e fiumi in piena, smottamenti lungo le provinciali a Torricella Sicura e Valle Castellana. Neve in quota, anche Prati di Tivo, è ricomparsa la neve decisamente fuori stagione, diversi centimetri di coltre bianca sul piazzale. E poi, sempre dalla provincia, siamo a Valle Castellana, i cittadini vogliono passare nelle marche. Biagio Caponi insiste sul referendum per Valle Castellana, era già nel programma del sindaco D'Angelo. Le motivazioni, collocazione geografica, il rapporto con le istituzioni, le principali ragioni del comitato per il referendum. Siamo in Val Vibrata, Corropoli, il liceo d'annunzio non chiuderà, preside, dirigenti e studenti incontrano la stampa per assicurare, dopo l'allarme dei giorni scorsi, nell'occasione è stato presentato il nuovo presidente della fondazione, Giuseppe Caccioppoli. Andiamo, Caccioppoli, pardon. Proseguiamo e siamo a pagina 15, stangata in bilancio sull'aliquota IEPF. Giulianova in movimento contesta l'innalzamento massimo dell'addizionale attacco al governo. La lista civica punta il dito contro il governo nazionale, contro la legge di bilancio 2019. Pagina 16, siamo a Roseto. Insegne i dubbi di Ennio Pavone sulla sospensione degli aumenti per l'ex sindaco. L'atto della giunta comunale potrebbe non essere legittimo. Si deve tornare in tempi brevi in consiglio per sistemare definitivamente la questione. Poi ancora, sempre a Roseto, il comune inizia a sistemare le strade. Affidati gli appalti per i nuovi asfalti, per stabilizzare i tratti brecciati. L'assessore Petrini ha fatto sapere che i lavori avranno inizio entro la fine del mese di maggio. Siamo ora con lo sport. Inauguriamo quest'ultimo segmento di Mattino 6. Lo facciamo con la città. Teramo, tra il mercato, le nuove norme, tra poco partiranno le trattative. Ma il Consiglio federale ha deciso documentazioni entro il 24 giugno. E poi entro il 12 luglio gli organici. Il presidente Gravina, presidente della Federcalcio, ha detto non ci saranno possibilità di deroche rispetto ai principi di onestà e rispetto dei valori. Serve equilibrio tra massimizzazione dei risultati e rispetto per chi ama questo sport. E allora andiamo ora a vedere le principali testate nazionali. Le prime pagine di sport, prima di tornare sui quotidiani locali. Siamo sul Corriere dello Sport, che apre così la febbre. La sfida che vale un trofeo e anche un posto in Europa. Show all'Olimpico, questa sera infatti c'è la finale di Coppa Italia tra l'Atalanta e Lazio alle 20.45. La Lazio può riscattare una stagione negativa. Inzaghi sceglie immobile per l'Atalanta. Doppio sogno, la Coppa e la Champions. E poi, sempre nella capitale, lo squarcio. La Roma scarica dei rossi, la rabbia dei tifosi. L'annuncio di Daniele, ho rifiutato un ruolo da dirigente, voglio continuare a giocare. L'abbraccio di Totti, è un giorno triste. Poi ieri c'è stato un forum al Corriere dello Sport, il calcio che vogliamo. Le parole anche del Presidente Federale Gravina, playoff e playout in Serie A. Poi le parole del CT Mancini, ci vuole più coraggio con i giovani. Vediamo la Gazzetta dello Sport, anche in questo caso l'apertura dedicata alla finale di Coppa Italia. Siamo la Coppa più bella d'Italia, con in primo piano i due tecnici Gasperini dell'Atalanta e Simone Inzaghi della Lazio. E poi sotto la testata Conte, ma non l'allenatore, bensì il Premier. Io, il Giro, il Foggia e il mio no alla Super Champions. Vediamo anche Tutto Sport, che apre così con un'intervista a Claudio Marchisio. Juve, Prendi, Klopp e Pogba. E poi sotto la testata Coppa Italia, sciore 20 e 45 all'Olimpico, la finale Atalanta-Lazio promette spettacolo. E poi di spalla in Belotti, rivedo Pulici, le parole di Ciccio Graziani. Volley, finale Scudetto, Perugia KO, Lube rimonta da campioni. Tennis, impresa contro Zverev, Berrettini che è gladiatore. Torniamo ora sulle pagine dei quotidiani locali per lo sport. Riprendiamo dal messaggero Abruzzo. Quarto posto meritatissimo. L'orgoglio di Repetto per il Pescara, questa società mai sfiorata dai polveroni. Solo Capone partirà per i mondiali. Bettella giocherà agli spareggi con noi. Poi le parole dell'esperto di diritto sportivo. Tambone, decisione della Lega giusta, subito i play-off. E poi in basso leggiamo il Delfino è ora più di una mina vagante. L'ex Damiano Zanon, giocando in casa tutto può cambiare. Benevento favoriti, ma è un torneo a parte nella coda. Poi tornando alle parole di Repetto, Perugia o Verona, non temiamo proprio nessuno. In caso di Serie A, Pilon ha già il nuovo contratto. Proseguiamo ancora con le parole del tecnico dell'Avezzano Colavitto. Dunque parliamo di Serie D. Vorrei costruire il futuro Avezzano. Mister Colavitto, protagonista della remontata con la quale ha realizzato la salvezza, come un caterpillar negli spogliatoi. Adesso mi fermo nella mia lanciano. Vediamo quali saranno le decisioni della società. Poi ancora per il basket, la Bruzzese De Angelis è tricolore con Schio. Tornando al calcio, ma la Serie C, Teramo fissata la data iscrizione. Niente più caos. Entro il 24 gennaio tutti gli atti senza più aspettare i ricorsi. Lo ha annunciato il presidente Gravina. Lo scorso anno la stagione partì con due mesi di ritardo. E poi in basso, Acqua e Sapone col dente avvelenato, prepara la gara di Napoli. Gara 3 della semifinale Scudetto. 1-1 la Serie dopo le prime due partite. Torniamo ora sulle pagine dello sport del centro. Ecco qui Pescara, la forza dell'esperienza. Tanti giocatori abituati ai play-off. Grazie al quarto posto bastano due pari per andare in finale. Campagnaro, Fiorillo, Bruna, Memusciai, protagonisti contro le Trapani di Scognamiglio nella cavalcata con Oddo nel 2016. Trionfo poi di Ciofani a Frosinone. E poi di spalla leggiamo Capone parte con l'Under 20. Bettella resta per gli spareggi. Allora vediamo il servizio sulla Serie B e sul Pescara. È stato uno degli inizi più tormentati di sempre per la Serie B e la conclusione non vuole essere da meno dopo la bufera di ieri. Dalla retrocessione del Palermo all'ultimo posto alla decisione del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B che anziché far slittare le date dei play-off come in tanti si aspettavano in caso di condanna dei Rosanero ha confermato che gli spareggi post-campionato partiranno nelle date già comunicate il 17 e 18 maggio. Come ancora più sorprendente la decisione di non far disputare il play-out aggiungendo la retrocessione in C del Palermo a quelle già date dal campo, Carpi, Padova e Foggia. Società quest'ultima beffata poiché confidava, come da nuova classifica, nello spareggio con la Salernitana. Va detto che la Lega di B già in estate aveva sfidato tutto e tutti forzando il format a 19 squadre. Sono piovuti ricorsi e contro ricorsi ma il campionato è partito ed è giunto alla fine con quelle 19 squadre con buona pace delle ricorrenti che si sono sciroppate la Serie C, peraltro a suon di recuperi viste le partite non giocate a inizio anno. Anche in questo caso la Lega di B tira dritto, ritenendo evidentemente solida e blindata la sentenza di primo grado e non ribaltabile in appello. Provando a isolarsi da questo caos, il Pescara da tutte queste dinamiche è la squadra che esce con più vantaggi. Passare dal quinto al quarto posto vuol dire evitare il primo turno di play-off, accedere direttamente alla semifinale, giocare il ritorno in casa e possibilità di passare il turno anche facendo lo stesso numero di gol dell'avversario nell'ambito del doppio confronto. Il Benevento ad esempio passa dal quarto al terzo posto ma era già qualificato direttamente alla semifinale. Ci ha guadagnato anche il Perugia, da prima esclusa a ripescata nei play-off e potenziale avversaria del Delfino che attende la vincente del match di sabato sera al Bentegodi tra Verona e Perugia. E mercoledì 22 gennaio il Pescara giocherà in trasferta alla semifinale d'andata. Dunque Bevi Pillon ha ancora otto giorni a disposizione per preparare la squadra, tempo che servirà ad avere un gruppo pronto, più fresco e riposato. Ieri ad esempio alla ripresa degli allenamenti hanno svolto lavoro differenziato in quattro. Del Grosso alle prese col problema alla caviglia per il quale ha saltato il match con la salernitana, Memushai, Bruno affaticato e Fiorillo che lamenta una lombalgia. Periodo che servirà anche a Marras e al bomber mancuso che hanno evidenziato segnali di stanchezza nell'ultimo periodo. Intanto il CT Paolo Nicolato ha diramato le convocazioni per i mondiali under 20 che inizieranno il 23 maggio. Non ci sono Mirko Antonucci e Riccardo Sottil, c'è Cristian Capone e c'è anche Davide Bettella. Ma grazie all'intesa trovata dal presidente Sebastiani con lo staff dell'Under 20, il giovane difensore in prestito dall'Atalanta resterà a Pescara e giocherà i play-off. E solo in caso di estrema necessità raggiungerà gli azzurrini. Dunque Pillon sarà privo di Capone e di Erisalde già con l'Under 20 uruguaiana. In merito anche al terremoto sulla classifica della Serie B ci sono altre parole del presidente federale Gravina. La Lega di B non è competente sui play-out. La reazione del presidente della Federcalcio sul caso Palermo domani se ne parlerà in Consiglio federale. Proseguiamo, Serie C sempre sul centro, Teramo Pescara, Asse sul mercato, arriveranno altri giovani dal Delfino. Difficile tenere ventola e proietti, il DG Capaldi piace alla Samb. Poi alcuni richiami sul calcio direttantistico, intanto partendo dalla Serie D con gli scenari societari. a Chieti, cordata di Iorio Basile come alternativa a Di Giovanni, eccellenza. Domenica i play-off nazionali, Torbidone spezza il digiuno, Torrese adesso non fermarti. E poi sul fronte Lanciano l'attaccante tra campo e scrivania per Di Gennaro, doppio ruolo da giocatore e dirigente. E poi basket di Serie B con le due gare due di play-off. L'amatori concede il bis trascinata da Capitanelli, Pescaresi sul 2-0. Venerdì si giocherà a Nardò, partita vinta ieri al Paleletra, 85-78. Con le parole del coach Raiola abbiamo mostrato carattere. Invece è andata male per la palacanestro Teate, troppi errori. L'ex Diomede costringono la Teate alla Resa e Salerno pareggia i conti nella serie. Siamo 1-1 dopo i primi due episodi a Chieti. Ecco qui il finale dopo un tempo supplementare. Teate 70, Arecchi, Salerno 74. Le parole del patron Marchesani. Ora vinciamo fuori. Noi chiudiamo con un'ultima pagina sul centro studenteschi di calcio a 5. Le finali a Giulianova fino a sabato al Campo Orsini. Si sfidano le selezioni maschile e femminili delle scuole secondarie di secondo grado. Oggi la cerimonia di inaugurazione. Noi chiudiamo con questa edizione di Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6. nelle edizioni delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Mattino 6 invece torna domani mattina alle ore 8. Grazie a Loris Bennato in regia. E grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.